ecco una piccola pillola tecnica relativa al video dedicato alla scelta del trave qui vi sto facendo vedere l'innesco del granchio su un biamo che va inserito ai lati e fatto sbucare al centro del granchio che è la parte più appetibile per l'orata per esempio ami che sono scelti in base alla dimensione del granchio quindi isashi 10026 del numero 6 legato su un bracciolo che deve essere comunque generoso visto la preda che potrebbe insidiare fluorocarbon dello 033